Sono Simone Tonolli, mi occupo di costruire archi, coltelli e penne. Lavoro legno e metallo per creare i miei prodotti in una sinergia con la progettazione CAD-CAM e artigianalità che ho sviluppato negli anni. Sono botteghe digitali per cercare un aiuto, una spinta nel campo del marketing, nella comunicazione e diciamo tutto quello che non è prettamente il mio campo che è fare l'artigiano.